Resta in carcere il 36enne che lo scorso lunedì aveva aggredito e picchiato un medico psichiatra all'interno della Casa della Salute di Pieve Santo Stefano. Il GIP del Tribunale di Arezzo Fabio Lombardo ha infatti, dopo la convalida dell'arresto, disposto la custodia cautelare in carcere per l'uomo. A scatenare la reazione violenta del 36enne, un buttafuori originario di Roma ma residente in Valtiberina, sarebbe stato il consiglio fatto dal medico di liberarsi del cane, un cucciolo di pitbull che spaventava le operatrici che dovevano andare a fargli le punture a domicilio. A quella richiesta la madre dell'uomo sarebbe scoppiata a piangere e da quel punto il 36enne avrebbe perso la testa, come da lui stesso ammesso, e si sarebbe scagliato contro il medico che lo seguiva. Il PM Andrea Claudiani, oltre al reato di lesioni aggravate e resistenza pubblico ufficiale, aveva contestato anche il reato di sequestro di persona perché lo psichiatra sarebbe stato chiuso all'interno di uno stanzino, un particolare negato dal 36enne nel corso dell'udienza di convalida che si era svolta ieri in carcere. L'ipotesi di reato è però caduta, il GIP nell'episodio non vede infatti il profilo del sequestro di persona. Il medico aggredito ha riportato lesioni giudicate guaribili in 40 giorni.